salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono grace proseguiamo la nostra avventura con il gioco di skyrim allora amici dobbiamo ritornare nel nostro regno dei vivi quindi di conseguenza dobbiamo parlare col tipo quando vuoi tornare dai vivi dimmelo e ti rimanderò indietro ok let's go let's go ora torna a nirn con questo ricco dono del mio signore shore un urlo per richiamare un eroe di sovengard quando ne avrai bisogno parole del potere eroe grido del valore campione grido del valore ottimo ok quindi siamo tornati nel regno dei vivi ok c'è anche un altro draghetto qua ok ma non ci dice nulla ma ce ne sono un bel po' di draghetti cazzarola ok 1 2 3 4 draghetti in totale va bene allora non mi sembri molto felice non ho rimpianti alduin andava distrutto alduin se l'ha cercata non ho rimpianti alduin andava distrutto certo non ti aiuterei se la pensassi diversamente hai fatto ciò che dovevi alduin si era allontanato dal sentiero della giustizia per palok per assecondare la sua brama di potere ma non posso festeggiare la sua caduta su tirazza scomma un tempo era mio fratello questo mondo non sarà mai più lo stesso allora ti avevo detto che l'avrei frammato e l'ho fatto stavo solo compiendo il mio destino di sangue di drago il mondo è un posto migliore senza alduin direi l'ultima sono felice che tu lo creda almeno continuerà a esistere riclo slain e anche io posso vedere oltre la fine del tempo per sapere cosa ci aspetta nid koravze yim dinos ket yid dobbiamo fare del nostro meglio in questo mondo mi sono lasciato andare Kroosys solos midfadon è facile per un dova cadere nella trappola della malinconia Hai appena ottenuto una vittoria epica, Sarod Krongrà, e verrà cantata in tutte le ere di questo mondo, per coloro che hanno occhi per vedere. Gustati il tuo trionfo, Dovaghil. Compirai altre imprese che attraverseranno le correnti del tempo. Ora, non mi sono mai sentita così. Ok. Ok. Che lo voglia, non lo sentiranno. Addio, Dovaghil. Ottimo, meno male ragazzi che non siamo stati costretti ad ammazzarlo, quindi direi di non tentennare di più. Bene, sono contento perché a fine lui ci ha aiutato e noi abbiamo aiutato lui a ammazzare il suo fratello che era un cattivone. Era un po' depresso il drago, però in qualsiasi caso presuppone che si riprenda. Ma dubito che la sovranità di Alduin sia meglio della tirannia della via della voce di Barthunax. Per quanto mi riguarda, hai dimostrato due volte la tua maestria. Duri, Dovaghil. Sono lieto di riconoscere il potere del tuo tour. Su, Wodhavink. Chiamami quando avrai bisogno. E cercherò di accorrere in tuo aiuto. Grande. Ottimo ragazzi. Abbiamo anche il draghetto personale. Ok, ok, ok. Andiamo a parlare con il tipo, vediamo un po'. Per quanto riguarda le missioni, è sparita la missione quella, uccidi questo tizio qua. Il nome non mi viene mai in mente. Parmax, ok. Quindi, presuppongo che non lo dobbiamo più uccidere. Comunque, andiamo a parlare con lui e vediamo cosa ci dice. Eh. Rem Yolok. Le Blade fanno bene a non fidarsi di me. Onikhan Miov. Io non mi fiderei di un altro Dova. Dov. Walahan Farel. Siamo nati per il potere. La volontà di dominare scorre nelle nostre vene. Lo senti anche tu, vero? Eh. Ci si può fidare di me, lo so. Ma loro non si fidano. Onikhan Miov Dova. È saggio non fidarsi mai di un Dova. Solo attraverso la meditazione e lo studio approfondito della via della voce, sono riuscito a sconfiggere la mia natura. Non passa giorno che non sia tentato di assecondare la mia natura. Zincri Forvut se Zuleik. Cos'è meglio? Nascere direttamente buono o sconfiggere la tua natura malvagia attraverso un grande sforzo? Non c'è nessun'altra opzione. Eh, quindi non possiamo darti una risposta purtroppo. L'Oc Dovum. Parla. Ti ascolto. Ok, ok amici. Allora, quindi il nostro amico draghetto non l'abbiamo dovuto uccidere sia per quanto riguarda le missioni principali che per quanto riguarda la storia. Diciamo così. Forse la volta presente che l'ho giocato mi sembra che l'ho seccato il draghetto, però questa volta che l'ho rigiocato molto più volentieri, devo dire che sono stato soddisfatto non averlo ucciso in quanto ci ha aiutato ad ammazzare il suo fratello, il cattivone. Altre cose ragazzi che vi posso dire di questo gioco, naturalmente come voi sapete ormai queste tipologie di giochi in prima persona e specialmente per quanto riguarda i draghi, l'epoca del ferro, magie e quant'altro a me piacciono molto e di conseguenza naturalmente il gioco ve lo consiglio anche se è un po' datato. A breve dovrebbe uscire anche il remake in HD di questo gioco e attualmente non so bene la cifra che viene messa sul mercato. Comunque io vi consiglio sempre di dare un'occhiata al link che potete trovare in descrizione di ogni mio filmato per quanto riguarda il sito dove io vado ad acquistare i giochi e vi posso garantire che anche i giochi in prevendita a molti li potete trovare scontati addirittura del 50% in confronto al prezzo che trovate su Steam senza calcolare che altri giochi magari un po' datati, anche quelli che magari io acquisto per 5-10€ su Steam vengono ancora venduti a più di 35€, una cosa assurda, quindi io lo dico per voi ragazzi così non andate a dare via dei soldi inutili a regalarli a Steam quando magari invece che spendere 35€ magari potete prendere altri 2-3 giochi molto belli e molto divertenti invece che prenderne uno solo. Ok, altre cose ragazzi vi posso dire che sempre in descrizione di ogni mio filmato potete trovare la mia pagina Facebook l'indirizzo dove potete vedere mese per mese i giochi che andremo a sviluppare insieme quindi di conseguenza questo mese andremo a iniziare su un erro 3-4 giochi che ho già preacquistato e devo dire che ne vedremo delle belle perché sono giochi veramente bellini e stendevo parecchio la loro uscita quindi direi che ne vale la pena. Ok, andarle a giocare insieme. Altre cose ragazzi, questo gioco qui era comprensivo di DLC e i DLC comprendevano, se non erro, la costruzione delle case il DLC per quanto riguarda dunque era la mutazione da vampiro e la mutazione da licantropo ma queste cose qui attualmente non le andremo a vedere perché come ho detto attendo questi giochi qui che stanno per uscire di conseguenza fra scaricare il gioco, andare a giocare questo e quant'altro non credo che riuscirei a svilupparlo adeguatamente quindi amici, io direi che se il filmato vi è piaciuto, se la serie vi è piaciuta lasciate un bel like vi ringrazio per il mio seguito, vi ringrazio per le visualizzazioni, vi ringrazio per i vostri commenti e i vostri consigli che mi sono stati veramente utili, come mi sono utili in questo altro gioco che andiamo ad affrontare insieme quindi amici, dal Grace Gamer 78, passo e chiudo!